Ciao, sono Anita e questo costume è Naruto Sexy no Jutsu e ho impiegato un giorno per farlo e mi piace tantissimo perché adoro Naruto. Ciao, sono Carlo Daniele, questo è il maestro Jiraiya di Naruto, il costume è comprato, la parrucca è acconciata da lei e il ruotolone è fatto interamente da lei. Gli zoppoli, i ghettos sono fatti da me e ho fatto Jiraiya perché mi rispecchia molto. Quindi guardiamoci, ci siamo andati, per favore, andiamo a fare un valore di Kryo, appena riusciamo a dire. Goooo! Grazie a tutti